Eris è territorio appetibile ai tour operator, ieri in venti hanno visitato il borgo, com'è andata? E' andata benissimo, intanto devo ringraziare Vincenzo Ops che ci ha portato questi circa 25 tour operator che venivano dalla Sicilia ma anche a tutta Italia e li abbiamo accolti assieme all'assessore Rossella Cosentino che la delega appunto al turismo ai grandi eventi, è un'accoglienza diciamo calorosa, sono rimasti entusiasti e incantati del nostro borgo che alcuni conoscevano altri no, naturalmente ancora prestito a festa quindi a maggior ragione insomma una pilla in più abbiamo raccontato attraverso un video promozionale il nostro territorio quindi non soltanto il borgo ma anche il nostro bellissimo lungomare perché la strategia vuole appunto erice tra cielo e mare e dobbiamo offrire appunto diciamo un'offerta variegata e quindi sicuramente il borgo ultramillenario ma anche l'osso lungomare perché ricordiamoci che molti turisti provengono dal nord Europa e sono molto attratti diciamo dalle bellezze del nostro mare quindi è andata benissimo, si sono riproposti di portare turisti nel nostro territorio ma naturalmente lo ragioniamo in termini di sistema quindi non soltanto erice ma erice inserita in un sistema, in un contesto territoriale che è appunto la provincia di Trapani e la destinazione occidentale ci tengo molto a questo perché credo che riuscire a promuovere il territorio sicuramente dà più risultati rispetto a pensare al proprio comune, al proprio orticello perché questo abbiamo dimostrato purtroppo negli anni che non ha portato a nessuna parte rispetto per esempio alla Sicilia orientale quindi la strada maestra è questa, quindi insistere sulla promozione del territorio chiaramente all'interno del territorio ci sono delle eccellenze come può essere il comune di Erice per la sua ultramillenaria storia, non abbiamo nulla da inventarci ma semplicemente valorizzare e promuovere questa grande eredità, questo grande patrimonio artistico e culturale